Ciao a tutti ragazzi, qui è uno dei due Duelist Brothers e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video diverso dal solito, il primo che facciamo perché andremo a fare un unboxing su Duel Links di circa 40 bustine che equivalgono a 2000 gemme del box di Infinity Ray. Andiamo ad aprire queste bustine che sono abbastanza recenti, infatti sono la penultima uscita perché sono usciti molti supporti per il deck di Utopia ma in generale per i deck che si basano su Xyz e che si usa come personaggio Yuma e Astral. Ho già aperto 10 bustine di Infinity Ray senza trovare nulla anche se ho trovato un UR che è Sirafino delle Stelle Shetro ma niente di che. Oggi andremo alla caccia principalmente di C39 che è il boss che possiamo trovare. Io ho già numero 39 e con lui mi farebbe molto comodo farmi un deck basato su Utopia comunque ma anche Kage Tokage che è interessante come carta, Livianir che può essere buone in certe situazioni e il coniglio da scorso e poi anche numero 68 che è un po' difficile da evocare con mostri livello 8 però è un buon supporter. Niente, adesso andiamo sotto con l'unboxing. Speriamo di trovare tante UR e tante carte che magari si possono usare in questi deck e non un po' di schifo. Ecco qua subito 3 Coribo ma niente luce, ci fa lo sguardo Yusei. Ah, niente, niente di che. Trappola, Radius, il Drago della Mezzaluna superando l'impossibile. Va bene, un SR al primo pacchetto non è male. Andiamo subito veloci col secondo, schippiamo. Niente, Nobili Cavaliere di Evan, Bug digitale Scarletatore, Scudo alla leggera. Terza busta, un Kuribo, schippiamo. Niente, niente di interessante. Costellazione, Arresca, Sicile Ieratico del sovrano Drago del Sole, Drago Ieratico di Nebted. Nebted, un Kuribo, niente, schippiamo. Veloci, Costellazione, Aresca, Re della Nebbia, Drago Ieratico di Eset, ancora. 3 Kuribo, attenzione. Brilla, Brilla di Blu, niente sguardo. Spirito Radiante, Xyz dietro eh. Raijin, ah, Drago Gaia del Destino del Tuono. Va bene, un'altra SR va bene. Però noi sappiamo tutti quale Xyz vogliamo. Niente, solo un Kuribo, Costellazione, Yades. Raggio Solare, Bug Digitale, Scariadatore, che abbiamo già trovato. 7. Settimo pacchetto, niente luce, niente luce. Skip, skip, 9 di Cavalieri, ancora. Drago di Labradorito, ok. Ottavo pacchetto, un Kuribo, skip. Andiamo veloci perché qua ci sono tanti pacchetti. Drago Ieratico di Gebev. Penultimo pacchetto di questa striscia. Ok, Brilla. Brilla ancora, potrebbe essere un SR. Raggio Solare, avidità. Nobile Cavaliere, Pellinore. Infatti era un SR. Ultimo pacchetto. Kuribo ci fa l'occhiolino. Vediamo, 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 vediamo. Brilla d'oro. Yusei ci fa lo sguardo. Dietro a Xyz, ragazzi. Dietro a Xyz. Avidità. Numero 68, buonissimo. Sanaphon della Prigione del Cielo. Buono, buono, buono. Questo qua mi interessava averlo, quindi è già un punto a favore. E numero 91, un SR. Cavolo, c'ha illuso che ha il Kuribo con l'occhiolino. Drago Tuono Scintilla. Comunque un rango 4. Tre mosti di livello 4 non sono impossibili da fare. Andiamo avanti con le prossime buste. Ma prima vediamo il recap. Abbiamo trovato 4 SR, di cui Drago Gaia, il Destriero del Tuono. Nobile Cavaliere Pellinore. E numero 91, Drago Tuono Scintilla. Ah, e l'ultima, superando l'impossibile. Che questa comunque si gioca nel Decutupia. Non so cosa faccia, ma abbastanza bene per adesso. Andiamo avanti con le altre bustine. Ecco il primo pacchetto. Niente, un Kuribo brilla, però dovrebbe essere un SR. Ufficiale Goblin Minore, bug digitale 100 bit. E ancora un'altra costellazione, Pollux, questa volta SR. Andiamo, tre Kuribo, vediamo se brilla. Niente brillare, non brilla, niente. Costellazione Iades, Lucicchio di Costellazioni, Colpo del Sole Nascente. Niente, terzo pacchetto, sempre tre Kuribo. Niente, non brilla. Per adesso è sempre tre Kuribo, ma non brilla mai. Drago Golem, Saggio, Seraphine delle Stelle, Draggard. Niente, quarto pacchetto, un Kuribo. Schippiamo, schippiamo, schippiamo. Costellazione Seat, Bug digitale Ladybug. Drago Ieratico di Gebeb, ancora. Cioè abbiamo il Play Set ormai di Gebeb. Non brilla, ha lo stesso con tre Kuribo, il quinto pacchetto. Agente Xyz, Prisma del Miraggio, Scout, Seraphine delle Stelle. Male, male, stiamo trovando solo UR. Magari UR, solo R. Sesta busta, non brilla niente. Distrittore inverso. Guardrago Promineses. Drago Ieratico di Gebeb, un altro. È già il quarto che troviamo da inizio. Settimo pacchetto, un solo Kuribo. Nobile Cavalieri, Ufficiale Gobbi, Nobile Cavaliere Fratelli. Sempre il stesso, Kuribo. Attenzione ci fa l'occhiolino. Vediamo se brilla. Non brilla. Neanche Yusei, non ci ha fatto neanche. L'occhiolino, Drago di Labradorite, rara. Questi dieci busto sono andate male, male. Dai C39, dai C39, vieni fuori. Il bug digitale Bozzo il Condensatore. Il bug digitale Rino Sebus. Un'altra, l'ultima. Spada Serafina delle Stelle, Radius il Drago Mezzaluna. E questa è l'azione Omega. Andiamo a vedere il recap di queste dieci bustine scarse scarse. Una sola SR che noi non utilizziamo. Ma se volete farvi comunque il deck bug digitale. Non so in quanti vorranno farlo. Ma qua ci sono molti supporti che potrebbero interessarvi. Andiamo sotto con le prossime dieci buste. Prima busta. Un solo Curibo. Niente, schippiamo. Arciere Fatato. Convertitore di Spirito. Scout Serafina delle Stelle. Anche questo ci abbiamo. Il 3 per sicuro. Blu potrebbe essere un SR. Spada Serafina delle Stelle. Emergenza bug. E numero 83, Regina Galattica. Non è un SR, però va bene dai. Sempre un Curibo. Andiamo avanti. Terzo pacchetto. Agente Xyz. Bug digitale. Vidi Bug. E nobili Cavalieri Fratelli. Quarto pacchetto. 3 Curibo. Dai dai. Facci questa maledetta luce multicolor. Bug digitale. Bozzo al Condensatore. Protettore del Deserto. E colpo del Sole Nascente. Un Curibo. Skip. Ah. Dai ragazzi. Dai dai dai. Che dobbiamo trovarlo. Col C39. Scout Serafina delle Stelle. Sempre. Andiamo un po' più veloci. Sempre 3 Curibo. Niente. Niente ragazzi. Non ce la vuole dare. Non ci vuole dare. Con la maledetta luce multicolore. Ancora questa relazione Omega. Sempre 3 Curibo. Questa volta ci fa l'occhiolino. Esplode. Brilla di giallo. Potrebbe essere ragazzi. Yusei ci fa lo sguardo. E nera. E nera. Carta stellare di costellazioni. Avidità. Drago Gaia il Destrero del Tuono. Ancora. Ci illude questo Drago Gaia. Andiamo avanti. Ottavo pacchetto. Un Curibo. Con le scritte gizze dietro. Ma non credo sia. Niente di speciale. Guardago Comines. E Curivolt. Carino. Nono pacchetto. Ok. Brilla d'oro. Arciere Fatato. Bug segnale. Parsec il Drago Interstellare. Niente. Andiamo con l'ultimo pacchetto. Yusei ci fa lo sguardo. Ma non era. Non brillava il pacchetto. Carta stellare di costellazioni. E terremoto. Andiamo a vedere il recap per questi dieci pacchetti. Andiamo a aprire gli ultimi dieci. Abbiamo trovato un Drago Gaia del Destrero del Tuono che avevamo già trovato. E basta praticamente. È l'unica che potrebbe usare in qualche deck Q. Curivolt ma non versicolo niente. Andiamo sotto con le prossime e ultime dieci bustine. Dieci buste. Andiamo subito sotto. Dai 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 dai. Utopia vieni. Raggiutopia. Viene noi. Prima busta. Un Curibo. Spada Serafino delle Stelle che ne abbiamo trovati infinità. Guardago Promineses. Anche lui. Drago di Labradorite. Già carta che conosciamo. Seconda. Solo un Curibo. Matrice dei Bug. Tarta Isola. E Curivolt. Sempre un Curibo. Andiamo avanti. Re della Nebbia. Pack digitale. Bozzo al Condensatore. E Vat Coda Drago. Dai 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 dai. Faccio uscire. Quarto pacchetto. Tarta Isola. Convertitore di Spirito. E Costellazione Omega che abbiamo già trovato un'infinità. Curibo. Ci fa lo cuirino e esplode. Attenzione. Attenzione. Ok. Ok. U6 ci fa lo sguardo. Lo swoosh. E' nera ragazzi. E' nera. Se è ancora Gaia. Impazzisco. Sigillo Eratico del Sovrano Drago Sole. Bug digitale. Rhinosebus. E numero C39. Raggio Utopia. Incredibile ragazzi. L'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. 2000 gemme se non bastate. E l'abbiamo trovate. Guardate. Guardate. Che bellezza. Tre mostri di luce di livello 4. Bellissima. Andiamo a leggere pure l'effetto. Puoi anche evocare Xyz questa catta utilizzando il numero 39 Utopia che controlli come unico materiale Xyz. I materiali Xyz attaccati a quel mostro diventano i materiali Xyz anche su questa carta. Puoi staccare un materiale Xyz da questa carta. Essa guadagna 500 d'attacco. E un mostro controllato dal tuo avversario perde 1000 d'attacco fino all'end phase. Deve avere 1000 life points o meno per attivare e risolvere questo effetto. E ha 2500 d'attacco e 2000 di difesa ragazzi. E' tanta 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 roba. Tanta roba. Questa va subito nel mio deck con Utopia. Grandi. Andiamo col sesto pacchetto. Ma per noi si potrebbe anche finire qua lo spacchettamento. Perché abbiamo già trovato il boss monster di questo box. Ma andiamo avanti. Sesto pacchetto. Un curibo. Bug digitale bozzo condensatore. Prisma del miraggio e bug digitale saldaragno. Sempre un curibo. Vabbè ma adesso non credo a meno che non ci dia un'altra carta. Ma dubito. Parse che il drago intestellare ci darà sempre un curibo a pari il mio. Però andiamo avanti e siamo fiduciosi. Sempre un curibo. Ottavo pacchetto. Guardrago promineses che ne abbiamo trovati migliaia anche di questo. Raggio solare. E bug digitale nucleo farfalla. Nono pacchetto. In ultimo l'ho schippato ma c'erano tre curibo però non ci ha fatto luce. Quindi al massimo può essere un SR. Matrice dei bug. Drago golem. Drago limite. Swartz shield. Swartz shield. Suoglio lingua. Comunque questo qua ho letto che è un effetto abbastanza bello. L'ho letto prima. Se tu lo sai controllo un mostro con attacco di 2600. Provocare specialmente questa carta d'automano. Carina comunque. Che è comunque un livello 8. Quindi parlando prima di 68. Questo è già un passo avanti. Andiamo con l'ultimo pacchetto. Un curibo. Niente. Squaccio lo guardiamo piano. Radius. Il drago della mezzaluna. Costellazione Leonis. Il drago eratico di Eze. Andiamo a vedere il recap di queste ultime dieci bustine. Stiamo andando malissimo con tutte rare. Drago limite che abbiamo trovato come ultimo. Costellazione Omega. Bug digitale scavato. Caldar salda l'agno. Bug digitale a Rino Sebus. Bug digitale nucleo farfalla. E poi arriva lui. Ragazzi arriva lui. La carta per cui abbiamo speso queste 2000 gemme. Tre mostri luce di livello 4. Perfetto. Poi si può evocare anche con Utopia che ho già. Se volete una decklist su due links del nostro deck di Utopia con Yume Astral. Fatecelo sapere sotto nei commenti. Bene ragazzi. Grazie per aver visto questo video. Se vi va mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale. E fateci sapere nei commenti. Come vi ho detto prima. Se vi piacciono questi video di unboxing su due links. E che box volete che noi andiamo a spacchettare. Per esempio andando a vedere nel negozio i box interessanti. Ce ne sono comunque. E ultime uscite come Photon of Galaxy. Che potremmo andare a spacchettare tranquillamente. O anche Shark Fang. Shiny Noop. Se risetto la scatola. Fatecelo sapere sotto nei commenti. E niente. Qui dei due links brothers è tutto. E ciao. Alla prossima.